A Ragusa diminuiscono i contagi, 103 oggi rispetto ai 107 di ieri. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, ma aumentano di 2 i ricoverati che salgono quindi a 6 al Giovanni Paolo II di Ragusa. Dei 103 positivi, 95 sono a casa in terapia domiciliare e 2 in RSA. Vediamo ora come sono distribuiti nei vari comuni della provincia. A Cate non è più comune covid-free, oggi un nuovo positivo al virus. A Chiaramonte invece i positivi sono 7, a Comiso sono 8, meno 2 rispetto a ieri. A Giarratana rimangono ancora 5, a Ispiga sono 6, più 3 rispetto a ieri, 9 a Modica, 0 a Monterosso, che rimane ancora covid-free. A Pozzallo sono 2, a Ragusa sono 35, meno 4 rispetto a ieri, a Santa Croce 6, Scicli 0, Vittoria 16, con un meno 3 rispetto a ieri. Ma se Ragusa conta pochi positivi e ricoveri, lo stesso non può certo dirsi nel resto della regione, dove i numeri scendono poco e stessa cosa vale per i ricoveri. Un piccolo campanello d'allarme, questo per gli esperti. Una situazione da non sottovalutare e per la quale fondamentale risulta la vaccinazione. E proprio in merito ai vaccini, prosegue la valutazione da parte dell'Asp di Ragusa, che da subito ha usato pugno duro sulla questione, sulle segnalazioni ricevute riguardanti personale esterno dell'Asp che risulta non ancora vaccinato. Se del personale dipendente ad essere sospesi in totale sono 28, di più sono quelli esterni. Se ne contano 276 e 10 tra questi, alla fine hanno scelto di vaccinarsi. Altra problematica da affrontare per l'Asp di Ragusa è la carenza di personale per il pronto soccorso della provincia. E per far fronte alla carenza di personale è stato disposto che tutte le unità di emergenza garantiscano turni nel pronto soccorso. Una scelta obbligata anche dalla pandemia che mette sotto pressione ulteriormente la rete ospedaliera.